e benvenuti in questo nuovo video e siamo insieme a ferici ragazzi come sempre siamo 80 anni alla telecamere vero no esatto tutti questi testi che sono dei testi testosi sono con aglio senza aglio si esatto la differenza dal classico e dal non classico ragazzi perché non abbiamo tanti cucchiai assaggeremo un pesto metteremo sul piatto con questo cucchiaio qua e dopo quando cambieremo il nostro cuore tutti i cucchiai e asciugarli per bene e anche verremo così meno sul sapore non verrà influenzato da quello che si inizia inizieremo subito con questo che è il titigulio vabbè ragazzi nessuno di queste mani ci avrà anche un clac perché evidentemente non c'è aria allora che rigole intanto ci deve entrare che è la conseguenza e passa passa un po' va finito un po' di complicanza allora innanzitutto odoriamo prova odorativa sa di pesto molto molto pesto e assaggiamo salatissimo è salatissimo per me è salatissimo ho finito perché no molto salato per me è salato no vabbè sentono i pinoli io sento solo sale perché è diverso sinceramente sento solo sale prossimo ragazzi il verrà anche con l'aglio senza sostanza allora innanzitutto affondiamo il cucchiaio che suppongo non passi secondo me non passa ovviamente passato primo pelle primo sugo sugo prima pozione a stima stanza e poi ovviamente è felix felix scrivete come volete un po' tanto però ci sta ragazzi l'assaggio anzi no l'odorino sa di pesto ma secondo me è più delicato secondo me un po' è meno assaporito cioè meno meno stong questo è già decisamente meglio rispetto all'altro niente lo scalo di grana ovviamente il pezzo deve essere un po' più salato insomma quello libera mentre ragazzi era già c'era talmente sempre un po' salato e direi che questo è già già notevole cioè notevole già meglio già c'è colla passiamo al prossimo e sempre la stessa marca ragazzi senza come ho detto in salto esatto un po' un assaggio per fare perfetto quanta roba e neanche meno salato sì 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 è più delicato mi piace di più io è più delicato mi piace di più e va la mamma e via la mamma ragazzi via 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 però ragazzi questo è quello classico no senza l'aglio no senza l'aglio no senza l'aglio apriamo l'unboxing di pesto che secondo me ci sarà dentro il ragù scuro e odioso che è un po' adesso non ho appena parlato una metafora c'è di pesto estremamente ma aspettavo ma aspettavo tutto grumoso mmm non dirò che non è neanche male e pezzi grossi mmm ma un po' diluito l'ho venuto già prima quindi ragazzi siamo a posto questo ragazzi con l'aglio non senza l'aglio quindi è quello classico secondo me una differenza c'è rispetto a con l'aglio e senza l'aglio ovviamente la punza dell'aglio ovviamente ragazzi ehm se nel senso l'odore la consistenza è sempre l'uguale è molto olioso è molto quell'altro è molto molto ehm e però differenza c'è l'aglio è molto grumoso secondo me perché secondo me magari l'aglio è un po' volumato l'aglio si vede si bisogna vedere che si vede a spanchi e questa non è qui mi faccio immaziere come cose più che altro più che un pesto e più tante cose messe insieme madonna non è che il pesto con l'aglio è l'aglio al pesto che è diverso ma no no gigante classico il gigante un box è molto catartico un po' 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 male c'è qualcosa c'è una roba strana c'è una roba strana perché è tutto molto ma direttamente gubile così riesce a prenderlo a vedere va da sinistanzi un po' un po' un po' un po' un po' senza aglio poi ragazzi ce ne mangiamo due questo qua ragazzi è senza aglio ma non ce ne sono altri quindi abbiamo beccato solo quello senza aglio e con l'aglio non c'era ragazzi quello classico quindi abbiamo per forza cosa fare questa mano che chiama biffi abbiamo fatto con l'aglio cioè senza aglio ragazzi scusate senza sempre mettere evidentemente nel il cucchiaio perché comunque è molto apposo ragazzi così ragazzi non sporchiamo i cucchiai oddio no il coso sporcando vuoi che tu così sì dai così non sporchiamo il coso e non sporchiamo altro buono un po' un boccone ecco tre due uno uno via bisognava migliorare prendi un po' di più questo iniziamo con questo benultimo che è il biffi ragazzi senza aglio perché è davvero un po' di più ragazzi comunque ragazzi sono ben 10 pesti e comunque supportate questo video perché ovviamente questi pesti non andranno assolutamente sprecati ragazzi anche questo è come il primo come questi due qui molto uniforme io quindi io darei sul cucchiaio così non sprechiamo non sporchiamo neanche il piatto questo non sappiamo la consistenza ma da qua ragazzi la vedete molto solida invece che liquida c'è un blocco di merda di merda la parola è simile però la parola è uguale amminiamolo sul coso amminare potete buttare ragazzi per chi non sapete questa cosa non va perché no oddio resiste non è allungiato resiste 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 buono va bene a posto poi chi guarda ti darà un altro boccone vediamo un po' questo questo non è assaggiare di nuovo secondo me è buono non capisco se è buono o salato per me è purtroppo salato per me è purtroppo salato strano ma non sa di pesto ok comunque si può dire che il suo vetro il vetro comunque odora è molto solido va un po' tenuto con l'acqua perché non si sta neanche da cucchiaio ma è un po' meno eh però eh la madonna è particolare ma l'ho rimalutato non è male è molto particolare è un po' anche lo un valore stai dividendo i cosi buoni rispetto a quella fatica è attivo vedi nel suo periodo questo secondo me io adesso faccio rimosco un po' la classifica ne rivolgo anche più sei sicuro questo rimane dov'è? dov'è? questo se mi taglio è molto buono questi vanno per ultimi questo qua no questo è quello classico questo si questo questo poi ci rendiamo questo questi così per me può essere la classifica è praticamente molto simile però so gli istituti dovrebbero stare così si vedrà con l'editing la finale questa è la classifica soggettiva di ognuno di noi ragazzi la classifica finale sarà dopo è la sua cioè questa è la sua questa è la mia questa è apparsa prima poi alla fine del video ci saranno i voti di ognuno e poi sommati con la classifica di tutti e trambi quindi dicevi tutti e due sommata e spero che il video vi sia piaciuto prossima stanza faremo con il ragù con la salsa sugo con il tonno e e possiamo dire che questo è tutto questo è il video e se il video è finito diciamo che la stanza è stato abbastanza complicato decidere un po' il punto esatto direi che questo video per oggi è finito esatto ragazzi e vai vai